I vini di Imperia, la Spezia e Savona sono di nuovo tra i protagonisti della Duia d'Ore in corso ad Asti, la prestigiosa rassegna enologica nazionale che ogni anno premia l'eccellenza in bottiglia di tutta Italia. Tra i 283 vini di qualità che hanno ottenuto un riconoscimento ci sono 14 etichette di Imperia, la Spezia e Savona, 5 delle quali hanno ottenuto l'Oscar, ossia la menzione speciale. In provincia di Imperia sono premiate l'azienda agricola Il Cascin di Gianni Massa, l'azienda agricola di Lombardi e Luca Calvini di Sanremo che ha conquistato due Oscar. In provincia della Spezia tre Oscar alle cantine Lune Bosoni e premio a Riccardo Arigoni. In provincia di Savona premiata la vitivinicola Dario Enrico. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti in programma domani ad Asti e i sei produttori Liguri saranno premiati dal presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Luciano Pasquale, che si è complimentato con i produttori che continuano a tenere alto il nome del territorio. In tutto sono state 864 le etichette partecipanti all'edizione 2018. Premiate appunto 283, sono stati invece 36 gli Oscar Duyador assegnati in totale.